Salve a tutti carissimi amici della Biblioteca Oasis di Perugia. Sono qui per presentarvi il mio ultimo libro dal titolo Le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà. Sono Luca Lucchini, ci siamo già conosciuti in un'altra occasione per la presentazione di un altro volume. Questo volume riguarda uno degli elementi costitutivi della vita cristiana, che sono le virtù cristiane che vengono infuse nel battesimo attraverso lo Spirito Santo. Noi ci santifichiamo in virtù del sacramento del baltesimo nel quale siamo innestati nel corpo di Cristo, nel corpo pasquale di Cristo e possiamo, come dice San Paolo, da quel momento chiamare in virtù dello Spirito Dio Padre Abba, cioè Padre Papà, e attraverso appunto la pratica nella nostra vita delle virtù cristiane possiamo e dobbiamo giungere a quella santità alla quale tutti siamo invitati in virtù del battesimo. Come ho scritto e come è stato riportato dall'editore, che è appunto l'edizione francescana Porziuncola, perché questo volume è nato dalle meditazioni che ho tenuto nella novena dell'Immacolata del 2018 nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, preparando appunto la novena dell'Immacolata e l'Immacolata celebra la santità di Maria, quindi quando il custode Padre Giuseppe Renda mi chiese queste meditazioni, queste riflessioni durante i Vespri, ho pensato di parlare delle virtù cristiane, elemento centrale e costitutivo, ripeto, della vita del cristiano. Non solo, come scrivo qui, sono costitutive della santità del battezzato, potremmo dire anzi, formano e manifestano la grazia e la libertà ricevute nel battesimo. Il volume ha avuto, o ha avuto veramente, l'onore e la gioia di avere scritta la presentazione dal celebre teologo e artista padre Marco Ivan Rupnik, che ha voluto donare anche la copertina che è un particolare di un suo mosaico del battistero della chiesa di Altamura in provincia di Bari. E poi ha questo volume anche l'introduzione del celebre gesuita come il padre Rupnik della civiltà cattolica, il padre Gian Domenico Mucci. Spero che questo volume possa essere una riflessione, possa spingere a una riflessione, a una meditazione sulla riscoperta, per chi si stima cattolico e cattolico particante, del sacramento fondante, cardine della nostra esperienza cristiana, che è il sacramento del battesimo. Quindi, per chi avrà la compiacenza di leggerlo, auguro a tutti una buona lettura e a tutti auguro sante giornate e viva Gesù!